buonasera e bentornati al tg della disinfestazione oggi vogliamo rispondere a questa domanda tutti vengono punti dalle cimici da letto paolo allora normalmente vengono punti tutti soltanto che alcuni sviluppano all'inizio dopo la prima puntura una lesione evidente normalmente nel 50 per cento dei casi si sviluppa una lesione mentre se si è punti ripetutamente questa percentuale aumenta delle persone che reagiscono a queste punture e le persone che non assolutamente non manifestano nessun sintomo sono un quinto delle persone normali le lesioni sono caratterizzate da un arrossamento cutaneo una sorta di papula rilevata della della cute molto pruriginosa arrossata spesso è possibile vedere un piccolo puntino emorragico centrale e quindi purtroppo è una lesione molto a specifica cioè una lesione che può essere data da altri insetti da altri acari eccetera e quindi non si può diagnosticare un'infestazione o una lesione da cimex lectularius senza aver prima effettuato una conferma dell'esistenza del focolaio anche se ci sono dei delle indicazioni che possiamo trarre dalla presenza di lesioni in fila spesso triadi alcuni le chiamano colazione pranzo cena che si possono vedere sulla pelle di un individuo colpito e è possibile riconoscere le punture delle cimici identificare che si tratti specificatamente di cimici assolutamente no purtroppo non è possibile perché numerosi altri insetti e acari riproducono lo stesso quadro sintomatologico e anche altre malattie cutanee non ascrivibili a insetti o acari benissimo a questo punto l'unica cosa che mi sento di suggerirvi è di scaricare la guida cimici del letto nella sezione guide gratuite del blog così che possiate avere un quadro completo di tutte le informazioni e ricordate che gli specialisti della disinfestazione sono sempre al vostro fianco per problemi di insetti infestanti alla prossima